Si è tenuto l'8 marzo alla Casa della Resistenza di Fondo Toce un incontro sul tema Donne del nostro mondo, organizzato dal Comitato Resistente Costituzione del Consiglio regionale con l'associazione che gestisce il luogo della memoria verbanese. Durante la serata, qui ha partecipato il Vicepresidente dell'Assemblea, Silvia Magistrini ha intervistato la giornalista e scrittrice Giancarla Codrignani.